Salve a tutti, buongiorno, buonasera, fate voi. Volevo lasciarvi un saluto da casa mia, mentre io sto, come vedete qui non c'è più nulla tranne il letto, che è qui, con la mia bustina di maratonina, e lì ci sono i letti dei bambini e le valigie dei bambini. Ok, questo è tutto ciò che resta, non ci sono neanche più comodini, niente, ci sono solo i letti. Volevo mandarvi l'ultimo saluto e aggiornarvi su queste ultime due giornate. Allora, innanzitutto inizio a dirvi che questo video uscirà prima degli altri due, ma ho già girato l'altro giorno, ho già girato il video, che poi sono diventati due naturalmente, perché ho parlato per un'ora e mezza sulle vacanze alle Hawaii, quindi insomma vi lascerò quelli e poi non so se riusciremo a sentirci prima che io parta o se ci sentiremo direttamente dall'Italia. Non ne ho la minima idea. Volevo aggiornarvi appunto, quindi quei due video sono girati, devo soltanto ricontrollarli e fondamentalmente settarli per la pubblicazione. Oggi è venerdì 17, domani sì, sabato 18, sì sì, oggi è venerdì 17, il mio cervello un po' va un po' così. Gli ultimi due giorni sono stati, beh più di due, ma in particolare gli ultimi due, cioè ieri e oggi, sono stati molto, molto, moltissimo impegnati, ma già da mercoledì sera. Mercoledì mio marito finalmente ha fatto l'esame finale che ha superato alla grandissima, quindi insomma siamo molto, molto contenti, molto orgogliosi. Ovviamente non c'è stato nessun tipo di tempo di festeggiare, peraltro lui ha fatto 40 anni la settimana, la settimana scorsa, sì. Non c'è stato un modo di festeggiare causa studio, non c'è stato un modo di festeggiare l'esame causa trasloco, vabbè festeggeremo più in là. Si è messo quindi immediatamente a lavorare, quindi è passato dal lavoro mentale al lavoro fisico immediatamente, quindi ci siamo messi a fare scatoloni a palla. Io ne avevo fatti 15 nei giorni precedenti. Gli altri 20, perché sono diventati 35 gli scatoloni, quelli da portarci in Italia, sono stati fatti con, devo dire, molta più fatica rispetto ai primi 15. Anche perché se i primi 15 sono stati fatti di, non so, che vi posso dire, vestiti, tutte cose da mettere nei sacchi, un po' di giocattoli, le cose un po' più facili, non so come dirvi, gli ultimi 20 invece sono stati più complessi, perché, diciamo, arriva a quel momento in cui tu devi aprire veramente ogni minimo piccolo cassetto e sistemare tutto, quindi tutte le minuterie, poi cambi stanze e saltano fuori cose che non ti ricordavi da una parte all'altra, oppure, non so, in tutto ciò tra, negli ultimi tre giorni in particolare, ho fatto un sacco di lavatrici. Adesso, infatti, qua sul letto soltanto il coprimaterasso, due coprimaterasso, cioè il salvamaterasso, il coprimaterasso e le lenzuola stanno lavando, in questo momento sono le 5.25 del pomeriggio. Le lenzuola ho lavato prima anche quelle dei bambini, oggi ho fatto altre quattro lavatrici. Preparando, iniziando a preparare le valigie, ho fatto le valigie dei bambini, che saranno due trolley piccoli, un trolley grande. Sto usando le stesse valigie con cui siamo arrivati qua, che erano a ciascuno un trolley da imbarco, da stiva, e un trolley, un bagaglio a mano. Ovviamente i bambini hanno, insomma, con i bambini riesco a risparmiare un pochino di spazio, e meno male, perché mio marito ha delle uniformi da portarsi con sé, necessariamente, perché non sai mai se i pacchi li perdano, ritardino, quindi, insomma, qualche uniforme va portato necessariamente, e sono cose ingombrantissime. L'uniforme, ovviamente, poi viene con le scarpe, la mimetica con gli anfibi, quindi tutte cose ingombranti e pesanti, che richiedono una valigia a sé. Quindi, per fortuna, con i bambini riesco ancora un po' a gestirmi la roba, e per fortuna, soprattutto, è roba estiva, per cui, più roba, meno spazio. Stavo dicendo, mi apprestavo, diciamo, a sistemare le valigie, perché dalle Hawaii abbiamo lasciato le valigie nelle camere, perché ho detto, non le svuoto completamente, ho tolto, avevo messo da parte in altre valigie, chiaramente, come dire, prima di tornare, ce la puoi fare, Alessandra, scusate, oggi sono particolarmente rallentata, e prima di tornare dalle Hawaii, ho sistemato, quando ho rifatto le valigie, ho messo, ovviamente, la roba sporca da un lato, oppure in una valigia, metà con roba pulita, metà con roba sporca, e quindi, nel frattempo, poi, ho fatto le lavatrici. Oggi mi sono accorta di aver lasciato il mio bagaglio a mano, con roba sporca, mia e dei bambini, quelle ultime cose, tipo, costumi, qualche asciuga a mano, qualche vestito dell'ultimo momento, che magari non ci stava da un'altra parte, con l'altra roba sporca, eccetera. Mi sono ritrovata una valigia piena di roba da lavare. Oggi dovevo lavare soltanto le lenzuola. Le lenzuola saranno l'ultima cosa che finiranno negli scatoloni. Gli scatoloni sono già tutti pronti, pesati, misurati, catalogati. Ora, infatti, mio marito è andato a stampare le bolle di spedizione, insomma, quindi fogli da attaccare, da mettere dentro, da attaccare fuori i pacchi, perché dovrebbero venire a prenderli lunedì. Ma le lenzuola, perché questa sarà l'ultima notte che noi passeremo qua, perché domani andiamo in albergo, volevo che fossero pulite. Quindi ho aspettato. Domani, non faccio in tempo a lavarle domani mattina, perché domani mattina abbiamo l'ultima tranche di trasloco. Oggi mio marito ha iniziato a portare le cose, vorrei dire le cose piccole, ha portato in realtà tutti i mobili, quasi tutti i cartoni e le cose che lasciamo alla famiglia che viene. a casa del ragazzo italiano che resta qui per il secondo anno. Ma le cose grandi, quindi ci mancano da portare, il divano, il nostro letto, i letti dei bambini, una, la scrivania di mio marì, dello studio, è un mobile che c'è nel basement, che faceva set con la scrivania, ma quello lo lasciamo fuori nella bordo strada, qualcuno se lo prende, mi ha lasciato oggi un tavolino, un altro barbecue, insomma, lo abbiamo lasciati lì, quindi chi vuole se li prende. Queste cose grandi, le più pesanti, insomma, le portiamo nel garage dei nostri amici brasiliani, in modo che sia più facile sia per noi che li trasportiamo, ma anche per chi poi si arriverà a riprendere, in modo che li prenda da un garage e non da un basement, perché il nostro amico italiano vive sempre qui in base, ma ha una casa in un altro quartiere, ed essendo lui solo ha una casa un pochino più piccola, che non ha il garage. Quindi tutto quello che hanno trasportato, l'hanno trasportato giù nel basement, e insomma, con alcune cose piuttosto pesanti, farsi anche le scale per scendere giù, insomma, è sempre molto faticoso. Domani viene ad aiutarci il nostro sponsor, credo porti anche il camion, perché è vero che dobbiamo trasportarli in due vie più in là. Però è impensabile farlo a mano. Oddio, tutto si può fare, però lui, insomma, se ha offerto di aiutarci, penso porterà un camion, che affiterà un camion per l'occasione. Dovevo dire un'altra cosa, dovevo dire un'altra cosa, aspetta, 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 non sfuggirmi dalla testa. Ah, sì, che oggi abbiamo avuto aiuto. Cioè, io mi sono occupata di tutt'altro, e oggi mi sono dedicata alle ultime lavatrici, al bagagli, cose di casa. Sono stata dentro casa oggi e ho appena finito, e mentre mio marito, stavo dicendo, ha avuto aiuto da due suoi compagni di classe. Quindi è venuta la nostra amica australiana, quella che è venuta per lo Yarsel qui, e un altro loro compagno americano. È stato molto carino, perché ha messo a disposizione anche il suo pick-up. Così hanno fatto tante volte avanti e indietro. Quindi mio marito è tutto il giorno che fa avanti e indietro da una casa all'altra. Fortunatamente, dentro la base, vicino, però va fatto. Va fatto anche perché le cose sono tantissime. E della spazzatura vogliamo parlarne? Spazzatura ovunque, calcolando che noi non abbiamo più diritto al ritiro, perché la ritirano il mercoledì. Noi abbiamo buttato l'ultima roba martedì notte, insomma, per mercoledì, diciamo. La casa la lasciamo martedì. Quindi non ci saremo per il prossimo ritiro. E lasciando la casa, l'ispezione finale sarà martedì e i bidoni devono essere vuoti, ripuliti e messi dentro il garage. Quindi non si può fare. Per cui lui, perché non l'ho fatto io effettivamente, l'ha fatto lui ogni tanto raccoglie, prende bustoni, raccoglie e porta in un posto vicino a scuola sua dove c'è uno più grandi cassonetti dove poter buttare la roba, perché questa è la vita di chi si sta per trasferire. C'è poco da fare. Ci sono anche amici che hanno detto se avete bisogno, quindi magari le ultime cose, soprattutto in fase di pulizia, le butteremo poi, insomma, nei cassonetti vicino di casa, se è offerto, insomma, qualcuno lo trovi, non c'è problema. Però capita di avere cose ingombranti. Per esempio, la casa di Barbie finita lì. Non so chi mi ha seguito su Instagram. Io ho provato. Allora, non avrei avuto il chilaggio, eh. Quindi comunque è andata così, va bene. Io ho provato in ogni caso a smuttarla. Alcune colonne si sono rotte, ma perché deve essere, secondo me, degli anni 90. È veramente vecchiotta. Quindi la plastica, insomma, ha la sua età, ha il suo uso, perché era proprio cotta. Avete presente la plastica quando è cotta, che è un po' scolorita, no? Se ne venivano via così. Si è rotta tipo cracker, praticamente. Ma l'avrei comunque riscocciata. Ho detto, non importa. Era comunque troppo larga per i nostri scatoloni. Quando ho diviso i tre piani, ma mi sono accorta che sotto c'erano, in mezzo c'erano i fili elettrici, perché c'erano alcune cose che andavano con la batteria, no? e alcune funzioni, diciamo. Quindi ho detto, vabbè, lasciamo stare. A un certo punto mi sono arresa. Tanto non l'avrei comunque potuta portare. se non si fosse rotta le colonne, eccetera, l'avrei rimontata e l'avrei messa a bordo strada, ma non basta. Ha fatto la sua ultima, ha avuto il suo ultimo anno di vita con noi e poi basta. Sarà in qualche cassonetto. Che brutto! Il chilaggio l'abbiamo sfruttato tutto, quindi siamo appena sotto i 400 chili che ci sono concessi. Sono riuscita a portare un po' di cose, sì, un po' di cose, un po' di decorazioni, soprattutto autunnali, un po' di cose leggere, però leggere per leggere devo ancora trovare un posto per i miei quilt. Per quelli finiti ho trovato posto, ne ho altri, anche il materiale che non sono riuscita a mettere nelle scatole perché sto ancora cucendo la notte, ci sto provando, ma la mia insegnante ieri mi ha fatto in una giornata, mi ha fatto due, ha iniziato il bordo di due progetti che sono riuscita a fare nell'ultima settimana, cucendo appunto ogni notte. Mi manca il mio quilt natalizio, quello mio personale, perché i miei chiaramente li ho lasciati per ultimi, ho pensato prima agli altri. non penso vedrà la luce, o almeno magari chiederò aiuto o a mia suocera o se mi vedrò con la mia amica Valentina che era qui l'anno scorso, che insomma vive vicino a Roma, quindi magari riusciamo a vederci e magari chiedo a lei aiuto, se no sarà la volta buona per imparare, comprarmi una macchina da cucire un giorno, mi piacerebbe averlo per Natale, quindi magari chiederò un aiuto più probabile che mi faccia aiutare la mia suocera. Lei ha fatto la salta, quindi insomma sa fare. Mi sarebbe piaciuto tornare a Roma con i miei progetti finiti da qui, mi sarebbe piaciuto comprare tessuti, ma non ho assolutamente spazio, più che spazio peso, e pazienza. Sono andata a venerdì, no venerdì, giovedì, non mi ricordo più, forse giovedì, a salutare, no ma che, martedì sono andata, quanto tempo è passato? Martedì sono andata al negozio di Quilt, ho comprato gli ultimi tessuti perché ne ho persi due, non so assolutamente dove siano, vabbè, e ho salutato le mie, ah no ma ve l'ho detto, ve l'ho detto già nella live di cucina, sì sì sì, che abbiamo fatto martedì, mercoledì, non mi ricordo più, scusate, non mi ricordo più, e basta insomma, quindi tutto a posto, lo salutate, sono giorni di ultime volte, ora sarà l'ultimo giorno che staremo in questa casa, l'ultima notte che passeremo qui, ieri mi sono fatto un pianto con la mia amica brasiliana, che uff, mi sta aiutando moltissimo in questi giorni, Eleonora è sempre a casa sua, sempre, 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 la mamma, siccome c'è sua mamma in visita qua per un mese, ha fatto ad entrambe le bambine, un completo all'uncinetto, con gli unicorni, un short e un top, no guardate, quando l'ho visto, ieri sono scoppiata a piangere, abbiamo pianto tutte e tre, e poi, no guarda, vabbè, questi sono i giorni delle lacrime, e tutto è concesso, è dura, sapevo che sarebbe stata dura, no no, non avrei voglia di, strappare, è pesante, è pesante, perché questa vita non tornerà mai più, questa esperienza non tornerà mai più, ci saranno altre esperienze, ci saranno altre cose, ma questa sta finendo, non, è un'esperienza così unica nel suo genere, che per quanto ne arriveranno altre, saranno altrettanto belle, brutte, non lo so, ma questa, non può tornare mai più, quindi è dura, poi l'ultimo anno è volato, sembra ieri che siamo arrivati, l'ultimo anno in particolare è volato tantissimo, è stato così strano per tanti motivi, così bello, vabbè, volevo aggiornarvi, sono 17 minuti, e che ve lo dico a fare, comunque, ho pulito il bagno dei bambini, ora, man mano che la casa si svuota, domani appunto c'è il trasloco finale, noi andiamo in hotel, dove peraltro, non hanno aperto la piscina, né funzionano gli ascensori, tanto per così, aggiungere del pepe a questa vita così piatta, sarà molto interessante, la cosa bella è che pian piano, anche i nostri amici verranno, un giorno uno, un giorno l'altro, quindi insomma ci ritroveremo quantomeno lì, tutti insieme, ecco, finiamo lì, tutti insieme la nostra avventura, mercoledì c'è, giovedì, venerdì, non mi ricordo più, comunque, settimana prossima c'è la cerimonia, la graduation, la cerimonia di diploma, diciamo, di mio marito, e poi, la nostra amica australiana, con un'altra ragazza, hanno organizzato una festa, per quel pomeriggio, quindi ci vedremo anche tutti alla festa, quindi insomma, c'è ancora da fare, soprattutto quel giorno, avremo finito, non staremo più pensando, a pulire case, cose, quindi saremo mentalmente, un pochino più, liberi, di magari rilassarci un momento, prima di correre nuovamente, e tornare ognuno alle proprie vite, no, non sappiamo nulla su dove finiremo, me lo chiedete molto spesso, non so assolutamente niente, torniamo nella nostra casa di prima, almeno per qualche settimana, e poi, nel giro appunto di qualche settimana, sapremo che fine dovremmo fare, infatti io non intendo aprire gli scatoloni, a meno che ci sia qualcosa di particolare, dove so, di andare a prendere, nel numero 18, una cosa che mi serve, gli scatoloni rimarranno lì, a pedi, chiusi, perché, io penso che al 90%, noi a breve, dovremmo fare un altro trasloco, quindi, sopravvivremo con quello che abbiamo, e anzi, gli scatoloni si aggiungeranno, e non solo, non ci voglio neanche pensare, questo, questo, pensiero, lo lascio, fuori dalla porta, perché non è il momento, tanto, come vi dico sempre, non posso fare nulla, va bene, io adesso mi metto a organizzare la valigia, le mie le ho sistemate, mi metto a organizzare le valigie di mio marito, perché c'è roba un po', come vedete, accatastata, così, lavata, accatastata, così mi metto a piegare, a sistemare, lui sta facendo, appunto, è andato a farsi stampare, da OPS, le bolle di spedizione, poi va a prendere Ele, Tommaso lo stesso, è da qualche amico, non so neanche da chi sia, è da qualcuno, oggi è letteralmente l'ultimo giorno, in cui può andare libero, e andare dagli amici, ha un'ora di rientro, quindi insomma, tra un po' dovrebbe tornare, e basta, questo è davvero l'ultimo video da questa casa, anche se voi poi vedrete le chiacchiere dalle Hawaii, questo è un braccialetto che ho preso Ele, al mercatino delle Hawaii, e ovviamente l'ha preso anche alla sua amichetta, e basta, ciao, volevo ringraziarvi, comunque, per il supporto di questi giorni, e soprattutto per avermi seguito in questa avventura americana, spero resterete per le prossime avventure italiane, ciao,